Questo video è sponsorizzato da Pumpling Acquista maglietti a tema Pokémon, anime e non solo Con il codice AXO24 ricevi il 20% di cashback e calzini in omaggio Senti, facciamo questo gioco, ti insegno Lo facciamo sempre assieme Si chiama Uwufufu della Discordia Allora, l'Uwufufu della Discordia funziona così Un round a testa Ok, vabbè Non vale picchiarsi No E chi inizia? Come vuoi, vai, inizio io, tanto questa Questa, vabbè, era facile Vabbè, questa si clicca occhi chiusi, tiè Eh, sì Vai Cavolo Cavolo Manafi ci sono legata per il fatto di Pokémon Ranger Per il film con Vera Che è poi il mio personaggio preferito di Pokémon Quindi ci sono tanti fattori che, diciamo, sono legati a Manafi Però Groudon Posso passare la mano? No, scelgo WCN tra questi due Sì, io sono un grande hater di Zigard Mi fanno cagare i colori Mi fa cagare la forma 10% Mi fa super cagare la forma 100% Zigard, quello normale di X e Y Lo rispetto WCN non mi fa impazzire È una bella idea Però non mi piace molto che praticamente non abbia Non abbia dei connotati, ecco Però scelgo comunque lui rispetto al cane di merda Che mi fa schifo Scusate fan di Pokémon Z Vabbè, questo è facile Perché tipo i tre beni amici non mi piacciono Hoggerpon invece sì È molto carino Senti, siccome sono tanti round Io qua non dico niente Andiamo più veloci Va bene Tra l'altro noto solo ora che ha il pisello Guarda Ma anche le tette Non vorrei dire però Vabbè, bello Adesso che me l'hai detto Sono tentato di scegliere Tornadus A me Zigard piace Fine Qua prendo Champao Meltan Pokémon veramente inutile Ma semplicemente perché te l'ho detto Il mio preferito dei Regi è Regirock Però il Reshiram mi piace tantissimo Cioè se mi chiedessi tipo Adesso Vuoi un Altart di Regirock O un Altart di Reshiram Ti rispondo Reshiram Questo è il corpo che vorrei avere Quando vado in palestra Cos'è un Picharant? È il misterioso di Ah, il Regione io amo la nonna Gen Regi Gigas A me le Mega dei Latest e del Latest non piacciono Mi piace più Lugia? Permetti? Sì, scegli Risposta esatta Vabbè Andiamo avanti Ci sta, ci sta Va bene Ok Eh Ah Eh Ah Può andare a fanculo Vabbè dai qui spezzo una lancia Perché sennò i fan di Quarta Gen Mi si mangiano I per niente per malosi fan di Quarta Gen Cos'hai detto che Drapion non ti piace? Perché non muori? Pezzo di merda Regi Elecchi secondo me è incredibile Perché Nonostante sia stato disegnato Verosimilmente quasi vent'anni dopo Gli originali tre Regi Comunque se fosse stato messo al posto di uno dei tre Non si sarebbe vista la differenza Vai fast Siamo a 1464 Scusami Grazie Vabbè avrei scelto anche una malattia rispetto a Calyrex Quindi Tornadus va benissimo Grazie a Dio A me Calyrex fa di una paura in una maniera assurda Poi è simpatico Questo coso è un leggendario? Sì sì Lui secondo me non ha personalità Quindi mi sa che prendo Urshifu Anche se non mi fa impazzire onestamente Io qui ero abbastanza Non lo so Vabbè Neanche a parlarci Ciao Chi era l'altro? Upa Grosso Ah va benissimo Non mi piace Mi scuso con i fan di Ultra Necrozma Però Non è il mio tipo di Pokémon No E niente Non c'è neanche Mi piace Sul Galeo mi piace tantissimo Però Mi metterei quasi vicino Questa è una bella sfida Però prendo Regi Ice Tanto andiamo a finire con tutti i Pokémon Eh Vabbè ma il Suquake Il primo round Chi se ne frega Poi iniziano le botte Cosmog Eh boh Allora Non lo so C'era la formacello Sì infatti già l'ho scelta Vabbè io quello di Darkrai Allora A me Mega Rayquaza non piace Però lo preferisco a Kyurem Eh qui Mi piace più Xerneas Mi dispiace Come Bobo Xerneas è un po' Bellissimo Io lo adoro tantissimo Regi still No 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 Io porterò i Regi in finale La mia missione sarà portare i Regi in finale Eh mi dispiace qua Io No la giusta Giusto Minchia bellissimo Archeocchiogre Mi piace troppo Sì sì no no Sono d'accordo Terrakion grazie E vaffanculo Però di Darkrai è più figo Cioè nel senso Lo vedo E c'ho gli occhi a cuoricino Perché Diamante è il gioco Che ho giocato più di tutti Penso insieme a Speraldo Urca Allora Zassian io l'avrei portato avanti contro un sacco di roba Anche su roba vecchia L'avrei portato avanti anche su Entei Per farvi capire che sennò poi vengo accusato di 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 nepotismo Però qua prendo molte Sgalar A te piace Parciado? Mi è indifferente Dai preferisco Magalatia stai Che in vero non mi piacciono Ehi Vabbè Allora Non sono particolarmente fan Di nessuno dei due Perché a me piace Reshiram E di alga e palchia Non mi fanno impazzire Però Questa è molto divisiva Secondo me Anche in chat Io prendo palchia Questo non c'è neanche da chiedere Di valli mi fa schifo Cresselia tutta la vita Grazie Mamma mia Non ce la faccio a vederlo Questo Questo è di alga Con i pantaloni A zampa d'elefante Allora A me Tapu Fini piace Però Cioè Questo è no brainer Mi dispiace per Tapu Fini Però Cosa? Niente Preferisci Fini a Deoxys? Come io Mi è uno dei miei poco preferiti Ma vaffanculo Deoxys speed No A me Entei non mi Cioè I cani Mi piace solo Suicun Raikun un po E Entei non mi piace Vai Prendici io Prendici io Vabbè Questo cos'è? Prendi di Ramagons Questo esattamente che cos'è? È una tartaruga con sopra una tartaruga con sopra una tartaruga Una ruota della fortuna Bellissimo Andiamo avanti Vabbè Non Cioè Non mi piacciono Che è il Deo? Dai Miraidon Con buona pace di Da Drake che ama Regi Drago Anche a me non piace troppo Ma non capisco perché hanno fatto Regi Drago e Regi Lechi No Non dirlo Non dirlo Che poi Da Drake parte con lo spiegone di mezz'ora Sulla lore Si mette gli occhialetti e fa Actually Regi Drago Preferisco a sto punto il cavallo Sì l'unica roba è che lui non sembra leggendario Ma Rapidash di ghiaccio C'è Rapidash Follette Rapidash Normal Rapidash di ghiaccio Queste non mi piacciono molto entrambi Però andrò per Che il Deo forma risoluta Ah Fezzan di Piti mi piace Molto carino Sì sono d'accordo Però mi sa che prendo comunque un Esprit Sì Scusate Non li posso vedere Mamma mia Cioè questo per me è come scegliere tra Un minuscolo ditino al culo Che è Urshifu E schiantarsi con la macchina e morire sul colpo Cioè è chiaro che scelgo di prendere un minuscolo ditino al culo Quindi prendo Urshifu Dai Kokeko Anche per me Koko No Primalkrodon Brakurem perché boh Ogni volta che uscirà Sulcun farò questo suono Non curante di chi c'è dall'altra parte Io qui prendo Lunala Molto bello Lunala Sì sono d'accordo Coraydon Zassian, Crown, è proprio bello E poi Cobal non mi piace perché sembra che c'è Buffy Il tuo Vogue preferito hai visto? Anche lui non è che sia il mio preferito Però Tundurus Vabbè no Non posso farti andare avanti Mi spiace Necroz Mi piace tanto ma No vaffanculo ma Jimbu si prende i Veltal Azelf qua Non mi piace molto Deoxys D Vabbè qui Tapulele assolutamente Mamma mia quanto è brutto Deoxys attacca figo Sì sì Ma non mi piace Kyurem con le forme alternative fuse Oddio Oddio Cioè ho capito che capita Melmetal contro Merdmerdal E poi capita Mew contro Ghiratina Origine Stai andando avanti? Allora lo so che prendo Ghiratina Origine perché sì Però non è giusto che Mew sia uscito E due forme di Urshifu no Ma figa Ma veramente stai facendo uscire Mew? Eh Ghiratina è più figo Sì per me sì Ahimè sì Ciao ragazzi sono Axo Sapevate che questo video è stato scritto e diretto da Quentin Tarantino? Che cazzo dite? Non è possibile che Tarantino abbia diretto un mio video Avete ragione Non vi ho fatto vedere la cosa importante Che la maglietta è di Pampling no? Quindi col codice Axo24 Avete 20% di cashback e calzini in omaggio Guardate com'è un film di Tarantino Eh? Ora è scritto e diretto da Quentin Tarantino? Belli eh tra l'altro questi Non male Pampling.com vi prego per favore fatemi mangiare Vabbè questa non è anche si guarda Sì Orko di Azz Il primo vero Pokémon leggendario contro il dio dei Pokémon Questa è bruttissima Questa è veramente uno scontro ideologico Eh non sono veramente in difficoltà anch'io onestamente Non so se vuoi sentire la mia opinione Io penso che andrei di Youtube Anch'io Eh A me reggi che se non piace Quindi Sembra un semaforo No Zassian qui A occhi chiusi Io te l'ho detto A me Zygarde piace No no ci sta anche A me che ha preso Zygarde E' che probabilmente come idea Lui è più ispirato di Zapdos Roadrunner Che non si sa bene perché sia un Roadrunner Però Però lui mi piace di più Non ci posso fare niente Figo il fatto che sia Quello che domina lo spazio Però Lugia C'è Lugia Lugia è troppo bello Andiamo avanti No Anche qua non c'è storia Xernas troppo bello Oh Cosa devi fare te Beh no è impossibile Non si può fare Con Chiogre Perché per me Allora il fatto è che A Suicun sono più legato Mi evoca più cose Però Chiogre Lo dico per me È più bello Di Suicun Però Io qua per coerenza Con me stesso Devo far passare Suicun Moltres di Galar Che è bellissimo E lecchi Eh Questa mi metterebbe In difficoltà Perché comunque Lui è effettivamente La lucertola Che quindi Certo però Il fatto che somiglia A un copertone Mi ha disturbato Dal giorno zero Non lo so No Mando avanti Ci sta Beh io qua ragazzi Purtroppo Scelgo Da figlio Di una società Patriarcale Sono un maschio Mi piacciono Le macchine Il calcio La figa E Darkrai Andiamo avanti Fosse stato qualcun altro Avrei scelto Coco Perché mi piace un sacco Però giraci Giraci Bello Terzo occhio Champau Fesandipiti Ci sta Deoxys Beh funziona Io invece stavo Per rimangiarmi Quello che ho detto prima Se sono un maschio Cioè Latias mi piace più Di Latios No anche a me Mi piace più di Latios Però vado di Ghiratina Perché Ghiratina Mi piace un sacco Anche a me Allora Per il semplice fatto Che comunque Ho fatto passare Deoxys normale Che è quello Che mi piace di più Qui io mando avanti Regice Ci sta Anche a me Mi piace più il normale Vabbè No Non No Io c'ho tipo Il filtro Terza gen Poi dovete scusarmi Eh no No vabbè Dai non c'è storia Cioè mi dispiace Cioè è proprio Dai Quazza è tipo Il mio leggendario Preferito in assoluto Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ciao Tundu Ma guarda Quanto è allucinato Hazel Questo è tosta Questo è brutto C'è Lugia Dai A me piace più Cresselia Non volevo No qua non c'è Neanche storia No Chiogre Normale È più bello Di Primal Chiogre Per me Preferisco Iveltal Io Preferisco Reshiram Registil Ci sta Che figo Che è di Alga Non si può fare niente Il signore dello spazio Vedete si Dello spazio Del tempo Guarda Manca farla apposta No Mi rimangio tutto Grodon Normale Vaffanculo Oh no Anche io avrei preso Xerneasco No Rispetto allo speed Prendo Lugia Mi dispiace Ti mando fuori Reggelechi Ah ci sta Anche io avrei preso Ghiratina Forse Guarda Sigarde No Sigarde Vabbè Non penso che Cempaw Manderà fuori Mewtwo Dopo che Mewtwo Ha mandato fuori Ah questa Questa per me Si può Si può discutere Prendi velta Lì o qua Non c'è neanche la Mi dispiace Zapdoskuller Mi piace tanto Zapdoskuller Ma Cioè se quel coso lì Ha buttato fuori O sarà meglio Che arrivi in finale Celebi Mi dispiace Cioè uno è la fenice Della resurrezione Mi hai detto Di fare Se fosse stato Lugia Avrei scelto Lugia Sì no ma certo Ma io ti ho detto giusto Perché il gioco funziona così Tu devi scegliere chi vuoi tu Poi io sono libero Di mandarti a fare in culo Però tu devi scegliere Chi vuoi tu No Dei reggi Mi piace solo reggirock Vabbè Vaffanculo E quazza Ma ci stiamo portando Tutte e due le forme di re quazza Io da Zelf non lo scelgo Mi dispiace Non lo scelgo Non lo scelgo E quazza Articuno Ciao Reshi purtroppo No Eh no io Articuno Lo adoro È uno dei miei preferiti È top 5 per me Articuno Mi dispiace Ciao Darkrai Questa mi mette molto in difficoltà Perché lui lo trovo più bello Lui però è più pieno secondo me come Pokémon No prendo Deoxys No qui ci sta A me Suicun piace Tanto Tra i cani è quello che mi piace di più E non credo di farlo uscire per Lunala Che Lunala è bello per carità Però Articuno andate a fanculo Però mi piace più Cele P.D. Groton Cele mi piace molto È un bel Pokémon A me piace anche Mew tantissimo Sono usciti nel 96 i primi giochi Avevo 0 anni Non sarei nato fino a 3 anni dopo Quando ho iniziato a giocare Esistevano Ghiratina Esisteva Dialga Esisteva Palkia Però Mew Tu è più bello Eh sì 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 no Mew Tu Beh Cioè Prima c'è la storia Con Ma con Iveltal A me Iveltal Piace Ma piace 100 miliardi di volte più Xerneas E di più Cresselio Perché è proprio bella Cresselio Stupendo C'è ancora Raiquaza normale vero? Sì c'è ancora Allora Lugia a cuor leggero Vabbè ci sto Vabbè qui mi piace più Raico dai Non mi piace di latina con le gambe Comunque prendo su Ecul Aia No qui io non so scegliere Eh io sì Io ve l'ho già detto Scelgo Raiquaza Non so se tu avresti scelto Ghiratina Penso di sì vero? Forse Ghiratina Però Boh Non lo so No mi sarei rifiutato Avrei tirato a casaccio Avrei fatto scegliere la chat Che ha scelto Ghiratina Ma io non lo so No sui con che cazzo devo scegliere Vaffanculo Vaffanculo l'uccello con le mani Infatti no mi dispiace Ammerti che uno piace Però Sì no ma non scherziamo Mewtwo Mewtwo è un'altra roba Comunque Cipolla Gosbr Ragazzi Vedi comunque Era i quazza Meno male Eccolo E mo? Cioè mi dispiace Selebi è bellino eh Bellissimo Bellissimo Però A me piace più Mewtwo Di Selebi A te piace più Selebi Allora no È che io sono più Sono più Idealmente affezionato A ciò che rappresenta Selebi Però Se no Se uno deve vederlo Da questo punto di vista È molto carino È una fatina Simpatico Un cipollotto Però finisce lì Ovviamente non è Mewtwo Ok Io sono curioso no Drake Adesso Al di là del meme Shit Taster eccetera Come cazzo può Non piacerti Mewtwo A malincuore eh Cioè nel senso A me Selebi piace tanto Sappi che sarà Mewtwo Che andrà in finale Sì io qua ripeto Se devo scegliere Puramente esteticamente Qua scelgo Raikwaza Proprio a mani bassissime Se devo scegliere Come Pokémon Nel complesso Forse scelgo Mewtwo Guarda questo piede Dillo di nuovo Sì dai Prendo Raikwaza È un ufu fu strano Vabbè No non lo stai facendo veramente Che cos'è questa roba? Che vuol dire Smash or Paz? Chi ti scopi? No No Non va bene Questa cosa Hai ragione È veramente una roba Cioè non va bene Soprattutto dopo aver fatto Un discorso comunque Pseudo serio Su tutti Sui perché Per come Dei gusti Come evolvano i gusti Della community Whipping Bell No Oh mio Dio Vabbè 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 Vabbè